io ho visto Ciro e Chiuchio si mi avevano detto che andavano no, prima non so se rimani quelli, quell'altra dalle 9 alle 11 e mezzo si è fatto questo, si è fatto la cava ti ricordi? ancora ormai mi è passato ma lei deve passare di qua e di lì un caffè e una schiacciatina ti lo butta al centro la massa è tutta la massa è tutta poi te lo spiego perchè mi sono giudato lì in giù e poi te lo spiego Giambrone? avete sentito urlare Giambrone o no? allora vuol dire che c'è e l'ho aspettato il ragazzo senza scendere io un po' eh oh si c'è Giambrone? si c'è 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 vediamo che il posto è stato c'è si casca direi che è una rotonda vedete che fate? ah perché c'è una videocamera bastardo guarda un po' un po' un po' un po' un po' un po' Grazie a tutti 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 Grazie a tutti